Perché fare un podcast sull'e-bike? Ma ancora meglio, perché ascoltare un podcast sull'e-bike? Beh, forse perché questo settore sta diventando enorme, perché parla di mobilità sostenibile, perché c'è molta tecnologia di ultima generazione, e poi perché le storie dei brand che andiamo a trattare, che sono quelle delle nostre glici e dei nostri componenti, sono molto interessanti. Partono anche da più di cento anni fa, perché c'è tantissima gente che trascorre molto, troppo tempo in auto, e un podcast è la migliore compagnia in questi casi, perché è un ottimo modo per unire tutte le più grandi passioni che abbiamo, natura, bici, sport, cultura, e infine perché siamo bravi. E poi, chi ha detto che parleremo solo di bici? Grazie a tutti.